E' ancora stallo sulla manovra economica ferma in Commissione, rischiano di allungarsi ulteriormente i tempi per il via libera della legge bilancio alla Camera. Il testo modificato dovrebbe arrivare in aula tra domani e dopo domani e chiudere la partita Montecitorio entro Natale, poi si passa al Senato. Mentre dopo le proteste delle opposizioni la maggioranza ritira l'emendamento sullo scudo penale per i reati tributari. E' una grande vittoria per quanto ci riguarda che otteniamo rispetto al kit dei furbetti dell'evasione. Però è chiaro che sorveglieremo perché questo emendamento non ritorni da nessuna parte nel corso dell'Ide di approvazione di questa manovra di bilancio. Nessun rischio di andare in esercizio provvisorio rassicura la maggioranza. Intanto arrivano modifiche come il bonus di 500 euro per i diciottenni, bonus cultura che resta per i redditi bassi e potrebbe anche raddoppiare. Che un ragazzo di una famiglia normale, medio spendente, che ha sia il reddito di 35 mila euro familiare e sia 100 alla modalità può arrivare fino a 1000 euro. Da Bruxelles invece arriva il via libera della Commissione europea alle modifiche del piano di sostegno alle imprese italiane, compreso un rifinanziamento di 23 miliardi per far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina.